L'alta partecipazione allo screening sul covid rende il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani particolarmente orgoglioso dei suoi concittadini, ma ora a preoccupare sono i tanti positivi emersi sul territorio comunale. Le percentuali sono praticamente da zona rossa. Per questo si è deciso di replicare la possibilità di sottoporsi al test rapido, da domani fino a venerdì ancora a Palazzo Sirena. Purtroppo la situazione a Francavilla non è semplice. Abbiamo raggiunto, a oggi ci sono circa 210 persone positive, un numero che non avevamo mai raggiunto prima e al quale si è arrivati per i contagi che si sono manifestati nel mese di gennaio. Avevamo gridato alla prudenza, a Natale, a Capodanno, avevamo detto di non abbassare la guardia. Purtroppo è capitato questo, che oggi abbiamo 210 contagiati che su 26 mila abitanti rappresentano lo 0,80% della popolazione, una percentuale che non avevamo mai raggiunto. Quindi è bene proseguire con gli screening di massa. Per questo, insieme al direttore generale della ASL, Thomas Schell e al prefetto, abbiamo deciso di continuare. Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, qui alle mie spalle, nel Palazzo Sirena, sarà possibile sottoporsi allo screening dalle 8.30 alle 13.30, dalle 14.30 alle 19.30, ci sarà personale sanitario e come sempre i nostri istancabili volontari che ci hanno dato una grossa mano in questa fase. Sarà possibile anche per i non residenti, lo dico perché me lo chiedono spesso e quindi sarà possibile venire anche se non si è residenti a Francavilla al mare. Lei ha detto che sono quasi numeri da zona rossa se Francavilla fosse un enclave a senso. Sì, sono numeri da zona rossa, cioè se oggi dovessimo prendere l'indice RT della sola Francavilla, così come anche di altre città del Chietino, sarebbero indici che ci porterebbero immediatamente in zona rossa. E' così, Abruzzo giallo, Francavilla rossa. C'è stato un periodo nel quale io dicevo che Francavilla era giallo e che l'Abruzzo doveva essere rosso, oggi è l'esatto contrario. Quindi dobbiamo stare attenti, soprattutto ora con la zona gialla, a non abbassare la guardia, a rispettare il distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani. Pensate che più della metà dei contagi, a mia conoscenza, è stata causata da un paio di focolai. Perché poi che succede? Mi infetto io, torno nella mia famiglia, nella quale non uso cautele, quindi infetto mia moglie, infetto mio figlio e la cosa si allarga. È così che funziona.